Davide Zappacosta Sì, non ho visto i risultati delle altre perché dobbiamo pensare a noi stessi, mancano sette partite, purtroppo la classifica è quello che è, quindi dobbiamo cercare in questo finale di stagione di cambiare marcia e cercare di vincere più partite possibili per restare attaccati ai nostri obiettivi. Di certo c'è una partita importante giovedì, vedremo un'altra Atalanta contro l'Ipsia? Ma sicuramente dovrà essere un'altra Atalanta perché come detto prima non possono venire a mancare intensità e personalità, quando giochi senza intensità, senza cattiveria fai fatica contro tutti gli avversari e al contrario quando spingi forte riesci a giocartela con tutti, quindi penso che la base della partita giovedì debba essere proprio questo aspetto.